pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati festa della santa famiglia meditiamo sul brano della presentazione di gesù al tempio ne cogliamo due spunti tenendo conto proprio della festa di oggi primo punto dio al centro è interessante notare che maria e giuseppe compiuti giorni della purificazione rituale secondo la legge di mosè si presentano al tempio per presentare il primogenito luca lo ripete per ben due volte quasi a sottolineare come maria e giuseppe si lasciano guidare dalla legge del tempo dalla legge religiosa quindi dalla parola di dio e dall'interpretazione della comunità credente per fare la volontà di dio andando al tempio incontrano simeone che va al tempio mosso dallo spirito santo fermiamoci qui abbiamo le due dimensioni meravigliose della concretezza della fede cioè avere fede nel signore vuol dire accoglierlo riconoscerlo proclamarlo signore della propria vita fidarsi di lui fidarsi della sua parola significa appoggiare fondare la propria vita su di lui e fare esperienza del suo amore e credere nel suo amore per noi e seguirlo la concretezza della fede vuole che i miei passi siano guidati dal signore e come guida i nostri passi per mezzo dello spirito santo che ci è dato e quindi lo spirito di dio che nel cuore ci ispira ci illumina apre le nostre menti a comprendere la parola fa sorgere nel cuore desideri di santità ci aiuta a scegliere ciò che è davvero buono ci insegna interiormente ad amare ci libera dalle nostre piccole grandi schiavitù nella misura in cui collaboriamo con lui e poi lo spirito santo ci spinge a vivere secondo la parola di dio che ci insegna ad amare ecco la concretezza della fede se io dico di fidarmi di gesù mi fiderò anche di ciò che gesù dice faccio un esempio se gesù nel vangelo ci dice chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna va da sé che io andrò all'eucaristia andrò a messa perché perché me l'ha detto don tizio padre caio suor sempronia no perché gesù l'ha detto ecco la fede concreta fede in qualcuno e in ciò che mi dice fede che potremmo dire si alimenta cresce si coltiva nella comunità credente caliamo quindi tutto questo nel contesto familiare quanto sarebbe bello e prezioso nelle famiglie cristiane vivere concretamente la nostra fede una fede concreta sarebbe bello riscoprire il valore di piccoli segni ma importantissimi per alimentare la nostra fede ad esempio che bello se in famiglia c'è un momento in cui si prega insieme che bello se prima dei pasti si fa la preghiera insieme e si spegne la tv per condividere vivere quel momento come apertura di cuore gli uni agli altri che belle quelle coppie dove durante il pasto c'è anche la condivisione magari di una parola del giorno del vangelo di qualcosa che ha colpito di più profondo la domenica vivere l'incontro col signore come qualcosa di bello io ricordo quando ero piccolino la domenica il prepararsi il vestirsi bene per andare a messa sono segni bellissimi o la mamma e il papà che pregano con il figlio con la figlia ricordo in un suo testo franco nembrini che raccontava come gli rimase impresso che suo papà ogni sera andava in stanza con lui si inginocchiava e pregava il padre nostro ecco la concretezza di una fede vissuta in modo autentico lasciandoci guidare da gesù cioè dalle parole del vangelo dall'insegnamento della chiesa e man mano diventando sempre più docili alle ispirazioni dello spirito santo che muove i nostri cuori all'amore secondo passaggio maria e giuseppe vanno al tempio facendosi guidare abbiamo detto dalla legge di mosè e lì vivono due incontri con simeone e con anna simeone è l'uomo dell'attesa l'uomo che attendeva di vedere il messia con i suoi occhi e l'uomo che si fida delle promesse di dio e sa attendere vi faccio notare un particolare molto bello maria e giuseppe obbediscono al signore attraverso la legge di mosè simeone docili allo spirito santo questo permette il loro incontro e permette al signore di realizzare la promessa che aveva fatto a simeone quanto è bello tutto questo perché ci dice che quando siamo docili alla volontà del signore permettiamo che si realizzino nella nostra vita e nella vita degli altri le promesse le benedizioni di dio simeone dunque li incontra e pieno di gioia loda il signore e dice ora lascio signore che il tuo servo vada in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza simeone riempie di gioia il nostro cuore di speranza perché ci fa capire una cosa fondamentale che dio non sempre soddisfa le nostre richieste ma sempre realizza le sue promesse dio ci ha promesso nella fede in lui la vita in pienezza la santità ci ha promesso benedizioni nella nostra vita e in quella di coloro che noi amiamo bene per quanto a volte il male sembri più forte per quanto a volte ci sia sofferenza da attraversare dio e fedele alle sue promesse e subito dopo c'è l'incontro con anna questa arzilla nonnina di 84 anni che vedova vive per dio e prega e loda e vive nel tempio e offre digiuni preghiere e una donna piena di vita come dice un salmo piantati nella casa del signore anche nella vecchiaia saranno vegeti e rigogliosi e non smetteranno di produrre i loro frutti che bella quell'anzianità vissuta con il signore quella vita vissuta con il signore anche l'anzianità ha i suoi frutti di saggezza di offerta di bellezza nonostante la fatica del corpo che man mano invecchia della stanchezza che sopraggiunge ogni stagione della vita ha i suoi frutti e le sue foglie meravigliosi e anna vive per dio è piena di vita potremmo dire che persino fonte di vita per altri che bello e quanto è vero tutto questo quante anime meravigliose di persone ammalate anziane nascoste agli occhi del mondo manote agli occhi di dio e questo può valere anche per te caro fratello cara sorella forse non diventerai famoso per il mondo forse non vincerai un nobel non girerai un film non farai carriere successo ma il tuo nome è scritto nel cuore di dio lui saprà ricompensare i tuoi sforzi le tue fatiche i tuoi atti di fede di amore lui è dio e sei prezioso ai suoi occhi e quindi maria e giuseppe vivono questo incontro potremmo dire calandolo nella vita familiare che c'è un incontro tra generazioni diverse e uno scambio uno scambio di vita un amore che circola maria e giuseppe con la loro giovinezza presentando il figlio che il messia regalano gioia speranza ad anna anna con le sue profezie nutre il loro cuore e lo sedimenta sempre più nella fede in dio calandolo nella nostra vita che bello l'incontro tra generazioni anche nelle nostre case papa francesco ci ricorda spesso quanto sia importante non perdere di vista questa comunione bella tra generazioni quante volte ad esempio i nonni diventano e sono come degli angeli custodi per i loro nipotini quello scambio bello fatto di amore di esperienze nel rispetto degli spazi di ciascuno certo ma all'insegna della carità oggi dobbiamo guardarci purtroppo dalla cultura dello scarto dove la malattia l'anzianità vengono viste ormai come pesi di cui disfarsi il prima possibile e invece no una società che perde di vista la vita e una società che sta costruendo una cultura di morte papa francesco raccontò una storia molto significativa a proposito viene in una famiglia un anziano che ormai il poverino sbrodolava tutto quanto mangiava il genero era fortemente infastidito da tutto questo e un giorno decise di costruirgli un tavolino così da farlo mangiare in una stanza a parte il figlio letto ci rimase un po male un giorno quest'uomo torna a casa e vide il figlio che stava lavorando con la legna e disse figliolo che stai facendo sto costruendo un tavolino papà e perché lo sto costruendo per te per quando sarai vecchio tu chiediamo la grazia al signore che le nostre case siano famiglie dove regna davvero dio siano famiglie dove regna l'amore il prendersi cura dell'altro con le modalità necessarie perché questo possa avvenire nel migliore dei modi certo ma l'insegna della cura d'altronde miei cari se gesù è nostro signore se dio è al centro lo si capisce da una cosa ce l'ha detto gesù da questo riconosceranno che siete mie discepoli se avete amore gli uni per gli altri buona festa della santa famiglia e che dio vi benedica tutti pace e bene